Buongiorno, sono Deborah Virgilio, Sales Manager di Antico Molino Rosso. Siamo un'azienda biodedicata che da 32 anni produce farine biologiche. Abbiamo due molini, uno è dedicato alla macinazione dei cereali biologici e con l'altro maciniamo cereali, semi e legumi gluten free in un impianto dedicato. Oggi siamo pronti con due novità studiate dalla nostra ricerca e sviluppo e presentata in Fiera Cigep a Rimini. La farina bio per la produzione di pane per hamburger sia con glutine e sia senza glutine, per uso professionale. Farina bio gluten free per hamburger Bans prodotta presso il nostro molino gluten free dedicato. Ecco le caratteristiche di questa nuova miscela. Biologica, gluten free, semi integrale, macinata a pietra, fonte di fibra, senza idrossi proprimate cellulosa, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio. Per la produzione dei panini da hamburger sarà necessario aggiungere altri ingredienti di quali uova, burro, zucchero. Guarda il video su YouTube e segui la ricetta. Vi invito a visitare il nostro sito spigabuona.com Grazie per l'attenzione.